Nella giornata di ieri si è tenuto il Disney Upfront durante il quale Kevin Feige e soci hanno annunciato diversi prodotti dei Marvel Studios ma anche esterni al ramo Marvel che arriveranno nei prossimi anni, nei prossimi giorni soprattutto e qui ci concentriamo su quelli che arriveranno per quanto riguarda i Marvel Studios. Andiamo a guardare quali sono quelli più interessanti. Tra tutti sicuramente spicca Daredevil Born Again, la nuova serie dedicata al diavolo di Hell's Kitchen con le sembianze di Charlie Cox, un Cox che abbiamo visto giusto in fugaci apparizioni come in Spider-Man No Way Home o in una puntata e mezza circa nella serie che trovate sempre su Disney Plus di She-Hulk. Qui però era Daredevil un po' più gigione, un po' più giocherellone, non era quello serioso e violento che abbiamo conosciuto nella serie dedicata al diavolo di Hell's Kitchen su Netflix. Le premesse di questa nuova serie creata dai Marvel Studios erano interessanti e infatti dalle prime descrizioni della serie e da qualche rumor uscito dagli addetti ai lavori pare che la violenza sia rimasta la stessa e quindi ne vedremo delle belle. Ieri hanno annunciato il nuovo logo che secondo me è veramente fantastico e hanno ufficializzato la data d'uscita e la divisione di uscita degli episodi sulla piattaforma Disney Plus. Tra le poche cose che sappiamo sono il numero degli episodi che sono 18 e che verranno divisi in due parti, quindi 9 nella prima parte e 9 nella seconda, probabilmente entrambe nel 2025. Quindi attendiamo con ansia il nuovo anno proprio per guardare questo nuovo Daredevil che adatterà la linea narrativa di Major Kingpin quando vedremo appunto Kingpin, sindaco di New York e un Daredevil che dovrà combattere per cercare di contrastare legionia del crimine che regna in città. Inoltre c'è molta attesa per il ritorno del Punisher di John Berthal che abbiamo visto nella serie tv e che per il quale sto veramente fremendo perché la serie è stata qualcosa di veramente fantastico. Passiamo invece all'altro annuncio ovvero quello della serie dedicata ad Agatha Darkness, una serie che sinceramente non attendo moltissimo in quanto WandaVision si era conclusa un po' così e il personaggio di Agatha era rimasto con diversi punti interrogativi che probabilmente andremo a spiegare in questa serie. Una Marvel che con questa serie non ha le idee molto chiare in quanto ha pubblicato diversi loghi dedicati appunto alla stessa serie tv e finalmente appunto durante questo evento ha ufficializzato quello che dovrebbe finalmente e sottolineo finalmente essere il titolo ufficiale di questa nuova serie dedicata ad Agatha. Ovvero Agatha all along riprendendo il titolo della canzone di uno degli episodi di WandaVision. La serie uscirà il 18 settembre e ci racconterà alcuni dettagli del Darkhold Diaries che abbiamo conosciuto durante WandaVision e che è stato proprio parte fondamentale degli eventi che abbiamo visto in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Questo e poi probabilmente ritorneranno alcuni dei personaggi che abbiamo incontrato sempre durante WandaVision. Altra serie che uscirà nel 2025 è Ironheart. Presentato anche ieri il logo della serie tv, ricordiamo che la protagonista è interpretata da Dominic Thorne e nei piani di Feige e Sochi questa dovrebbe prendere il posto di Iron Man in un eventuale nuovo film sugli Avengers o comunque sugli Young Avengers perché come sappiamo nei piani della Marvel c'è anche questo possibile film. Sembra che la serie uscirà nel 2025 anche se non abbiamo né un trailer né una trama ufficiale. Questi annunci fanno ben comprendere i piani della Marvel che ultimamente ha sottolineato di voler ridurre il numero di prodotti dedicati ai supereroi. Quindi dal prossimo anno, come ha detto anche Kevin Feige, dovremmo avere un massimo di quattro prodotti tra film e serie tv in totale. In questo tornano i conti perché stando alle dichiarazioni il prossimo anno dovremmo avere Daredevil e Ironheart in più, Capitan America e Brave New World e il film sui Fantastici 4 che attendo veramente con ansia. Siamo a quattro, se venisse confermata la data di uscita di Capitan America altrimenti torneremo a tre. Altra notizia e ufficialità data ieri, ogni prodotto che uscirà sulla piattaforma Disney Plus sarà etichettato con il logo Marvel Television in modo da dividere i due prodotti. Anche se in realtà, come sappiamo, le serie hanno molto spesso e recentemente un ruolo fondamentale nei film che poi andremo a guardare. Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ricordo di mettere i miei piaci a Ciacchiazione e seguire i nostri canali social Facebook, Youtube e Instagram. Un saluto da Valerio Perrone e ciao a tutti!